carlos bacchi laurea uno degli allenatori noi stiamo chiedendo agli allenatori ai coach che sono qui a questa selezione nazionale cos'è la selezione nazionale optimist che è una regata un po diversa dalle tante regate optimist che abbiamo è la regata sicuramente più sentita che c'è durante l'anno perché è quella che permette ai ragazzi di misurarsi con i migliori che ci sono in italia ed è quella da cui produciranno i migliori cinque che vanno al mondiale e gli altri che si selezionano a loro volta l'europeo subito dopo è sentita in maniera diversa quindi come la prepari tu come 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 diciamo allenatore e come la vivono i ragazzi dal punto di vista dei ragazzi bisogna venire qua sapendo che si viene ci si viene a sfidare con i migliori d'italia che ci saranno tutti i migliori non ci sarà quello che magari non è venuto per un problema x ci saranno tutti quindi va preparata soprattutto mentalmente per venire qui e sapere che bisogna mettersi con la testa bassa e pedalare per raggiungere il risultato la giornata dell'allenatore qui com'è dall'alba al tramonto dall'alba previsioni subito iniziere a immaginarsi un po quale sarà la giornata iniziere a immaginare come i ragazzi dovranno preparare la giornata a loro volta andare in acqua sperando di avere condizioni favorevoli soprattutto perché essendo una selezione servono condizioni favorevoli per raggiungere un risultato migliore possibile e poi sperare iniziare a ragionare iniziare con la testa e cominciare a pensare e per portare i ragazzi al miglior risultato possibile quanti ne hai qui un paio due ciao buon lavoro grazie